La Corsa dei Due Mari ha salutato Arezzo alle 9.25 con la partenza dallo stabilimento della Marconia Arredamenti ad Indicatore, prima della lunga sfilata per le vie del centro. Già alle 7.30, quasi due ore prima della partenza, gli appassionati delle due ruote hanno iniziato ad affollare il parcheggio della Marconia Arredamenti alla ricerca dei protagonisti della terza tappa, che ieri ha visto trionfare Peter Sagan sull'astricato di via Ricasoli. Lo slovacco della Cannondale è stato uno dei più ricercati per gli autografi e le foto di rito e certamente tra i più applauditi. Insieme a lui anche Pozzato, Moser, Ulissi, Contador e Toureau, il protagonista assoluto della fuga che ha caratterizzato la prima parte della terza frazione. Da segnalare anche il siparetto di Cadelevans, che oltre a firmare il tabellone alla partenza ha autografato il volto di uno speaker. Apprese la scena aperta per gli aretini e non poteva essere diversamente, il primo a salire sul palco per la firma è stato Eros Capecchi della Movistar, accolto dal calore del pubblico aretino e dai suoi tifosi. Eros, come sta andando questa tirreno adriatico? C'è Nocentini, mi fai corto, guarda, no bene, dai, tutto a posto, è un po' buono, quindi è già al più c'è. Senti, oggi entrerà davvero nel vivo la tirreno? È lunga, è lunga, dura, quindi tappa vera, vediamo cosa viene fuori. Poco dopo è stato il turno di Rinaldo Nocentini ed infine quello di Daniele Bennati, che insieme al collega della Gide Zerla Mondiale ha cercato di lasciare il segno nella sua città. Per loro tre non sono mancate le richieste di autografi e foto da parte di grandi e piccini, che non hanno voluto perdere l'occasione di salutare il passaggio della 49esima a Tirreno Adriatico.